Dopo 5 sconfitte consecutive, il Penne vuole dare una svolta al suo campionato con il cambio di guida tecnica. Gabriele Aielli subentra a Fabio Iodice. Pennese doc, Aielli si affida a Cellucci, Cacciatore e Cutilli. La Torrese è reduce da due vittorie consecutive e Remigio Cristofari presenta la stessa formazione che Domenica ha battuto il Montesilvano per 2-0. Bastano 37 secondi al Penne per passare in vantaggio. Cellucci arriva su un pallone lungo. Scarica dietro dove arriva Cacciatore a Rimorchio che con il sinistro batte a bate. Reagisce la Torrese che prova a creare. All'ottavo il cross di Di Nicola per poco non beffa d'amico. Sul corner successivo Mosca di testa non inquadra lo specchio della porta. Al quattordicesimo conclusione di Cacciatore dal limite. Palla fuori. Tentativo simile di Mastrilli. Il risultato è lo stesso. Al ventunesimo Cellucci raccoglie un lancio dalle retrovie. Incrocia ma bate attento e blocca. Un minuto dopo arriverà Doppio del Penne. Strepitosa giocata di Fulvi che sulla destra si libera del marcatore. Appoggia Cellucci che con un tiro al volo altrettanto bello mette la palla sotto la traversa. 2-0. È una doccia gelata per gli ospiti che però continuano ad attaccare. Di Lallo al trentaduesimo conclude alla ricerca del palo lontano. Tentativo troppo largo. Dieci minuti dopo conclusione da dimenticare di Tini dal limite. Al quarantacinquesimo i padroni di casa hanno l'occasione per il tris. Ancora Fulvi scatenato sulla destra mette un gran pallone al centro. Cellucci però trova la risposta di Camaioni subentrato ad abate. Con le riprese di Flavio Forcellese andiamo al secondo tempo. Al sesto minuto un'occasione per parte. Prima Santirocco servito da dietro non riesce a battere d'amico e poi dall'altra parte l'asse Fulvi Cellucci porta Rossi alla conclusione. La palla colpisce il montante. Dieci minuti dopo la torre si resta in dieci. Cellucci si invola verso la porta. Mbup lo stende. Fallo da ultimo uomo e conseguente cartellino rosso estratto dal signor Giallorenzo di Sulmona. La punizione seguente di Cacciatore scheggia la traversa. Al ventisesimo l'occasione per gli ospiti per restare in partita. Sponda di Santirocco in area. Gardini incrocia con il sinistro ma colpisce il palo. Un minuto dopo ancora Gardini. Il pallone sfiora il palo. Al trentacinquesimo il penne mette fine alla partita. Del Biondo riceve da Cacciatore. Conclude verso la porta. Camaioni respinge. In tap-in arriva Cacciatore che fa doppietta. 3-0. I Terramani provano l'assedio finale almeno per il gol della bandiera. Dopo un'altra sponda di Santirocco Gardini calcia malissimo. Nel finale corner battuto da Di Nicola. Mischia in area. Dirallo conclude da buona posizione ma da mica attento. Termina 3-0. Prima vittoria alla prima in panchina per Aielli. Il penne così può respirare. Per la Torrese una brutta prestazione da cancellare subito. Alla prossima c'è il cupello. Mister il gol subito dopo 37 secondi vi ha complicato il mezzo. Il calcio è questo. Domenica siamo andati in vantaggio dopo 30 secondi. Mancano ancora 90 minuti alla fine della gara e quindi non è quello che va a pregiudicare il risultato finale. Sicuramente andare subito sotto contro una squadra che ha cambiato l'allenatore. C'era sicuramente da dimostrare che questi calciatori valevano questa squadra e quindi sapevo che trovavamo una squadra ferita. Una squadra che volevano dimostrare tutto il loro valore. Noi siamo partiti subito così così. Poi abbiamo provato a giochicchiare però non siamo stati i soliti. Insomma eravamo molto evanescenti. Non siamo stati incisivi come in altre occasioni. Abbiamo concesso alcune ripartenze tra le quali abbiamo preso il 2-0. Quindi lì ho provato a cambiare subito qualcosina però noi oggi non c'eravamo e quindi il penne ha legittimato e ha vinto meno eternamente. Forse c'è stato qualche errore difensivo di troppo oggi. Sì sì. Dicevo poco anzi che forse un pochino di presunzione dopo tanti risultati importanti. Venivamo da tre vittorie in una settimana. Avevo chiesto ai ragazzi oggi una partita di maturità perché insomma comunque non dimentichiamo che questa è una squadra che ha 20.5 di media. Una squadra molto giovane. Abbiamo rinnovato tanto in estate. Quindi oggi era una partita verità insomma. Un crocevia importante per capire insomma quale potessero essere i nostri obiettivi. Sicuramente dobbiamo ripartire dall'umiltà, dal sacrificio, dalla voglia perché dicevo proprio prima della partita che per raggiungere determinati obiettivi c'è bisogno di questo. Mettersi alla pari degli altri. Poi possono uscire i nostri valori. Però se pensiamo di venire a giocare con chiunque con superficialità, con un po' di presunzione diventa tutto più difficile. Quindi da domani cercheremo di prepararci al meglio per domenica. Con questa vittoria il penne può respirare. Sì, diciamo che oggi è stata una partita fatta bene, con intensità giusta, con sacrificio e con ordine tattico. Quindi sono molto contento per i ragazzi e soprattutto ci voleva anche sotto l'aspetto del risultato perché la classifica insomma era quella che era. Qual è l'obiettivo del suo penne d'ora in poi? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, dobbiamo goderci questa vittoria, ma non possiamo pensare di avere degli obiettivi oggi. Quindi ce la giocheremo fino alla fine. Innanzitutto dobbiamo uscire da questa situazione che non era bellissima, non è ancora bellissima. E poi vediamo, ce la giochiamo partita per partita appunto. Grazie.